5, 4, eccola lì, meravigliosa, bellissima, guardate quanto è alta ragazzi, a te il microfono per salutare i nostri amici. Voi, carabelle che siete molto, molto ospitali, accoglienti, quindi io vi ringrazio. Fantastica serata, anche perché è il nostro ventennale, il nostro ventennale è tra l'altro la prima occasione di una grande festa dopo le restrizioni che tutti abbiamo subito. Devo per forza di cose fare dei dovuti ringraziamenti alla proprietà, a tutte le persone che hanno collaborato per rendere grande questo evento, perché grande è stato. Noi abbiamo scelto di fare questo evento con questi personaggi, la Malone Arculite, la Mammucari e in chiusura, ma non per ultime, le Donatella che hanno raccolto tutti quei clienti che da anni, devo dire la verità, ci seguono. bilancio positivo, bilancio positivo che sicuramente riproporremo, perché il nostro ventesimo non è solo oggi, sarà un anno di festeggiamenti per rendere ancora più grande questo centro commerciale.